Amici del software libero open source, benvenuti in questa 55esima puntata del podcast di Marcosbox. Prima di iniziare la puntata fatemi fare un abbraccio virtuale ad amici, parenti, a tutti quanti voi lettori di Marcosbox che vi trovate nelle zone del nord Italia e che in questi giorni e nei prossimi giorni a venire sarete costretti ad avere uno stravolgimento delle vostre abitudini quotidiane per via delle ordinanze per contrastare il coronavirus. E fatemi fare anche un abbraccio virtuale a tutti quanti il personale sanitario ma anche le forze dell'ordine che in questo momento sono impegnate per riuscire a gestire questa emergenza. Speriamo che al più presto si riesca a trovare una soluzione efficace per tutti e che questo sia soltanto un brutto ricordo. Iniziamo questa settimana con le notizie riguardanti il mondo di Linux Mint. Come ben saprete, ormai da tradizione da diverso tempo a questa parte, Clement Refeb, che è il patron di Linux Mint, nonché lo sviluppatore principale, il principale sviluppatore anche di Cinnamon, ad inizio mese, ad ogni inizio mese, pubblica sul blog ufficiale di Linux Mint un recap con tutte le novità che ci aspettano nei prossimi mesi e che vedremo su Linux Mint e su Cinnamon, oltre che ad un resoconto di tutte e quante le donazioni ricevute. Questo mese ci ha parlato di una cosa davvero necessaria, ormai da diverso tempo, e che finalmente vedremo approdare sulla prossima versione di Linux Mint. Sto parlando dello svecchiamento della palette colori utilizzata per il tema Mint Y. Mint Y è il tema predefinito di Linux Mint, che viene offerto in diverse varianti cromatiche, c'è quella blu, c'è quella acqua, che poi blu non era, c'è quella arancione, quella rosa, e via discorrendo. Bene, uno degli sviluppatori di Linux Mint si è occupato di mettere mano quindi alla palette colori e si è concentrato sulla tonalità, sull'offrire una leggerezza, una saturazione diversa, in modo da rendere i colori più vibranti, senza compromettere la leggibilità e il comfort. E sulla prossima versione vedremo finalmente queste novità, questa nuova palette colori, che rendono il tema Mint Y più moderno, più accattivante, e finalmente, aggiungerei, vedremo un blu che è veramente blu, perché io non so se avete mai visto il blu di Linux Mint del tema Mint Y, non era un blu, era un blu bruttissimo, ma era una tonalità di blu bruttissima. Adesso finalmente avremo una tonalità di blu che ricorda veramente la tonalità che abbiamo anche su KDR. Altra novità della prossima versione di Linux Mint riguarda un tool, il cui nome temporaneo è Warpinator, temporaneo perché hanno dato questo nome, ma molto probabilmente cambierà nel breve tempo, che cos'è? E' un tool che consente di condividere facilmente i file attraverso la rete locale, senza stare lì a fare sbattimenti per configurazioni server, IP e quant'altro. Si ispira a un vecchio tool che già dieci anni fa era presente su Linux Mint, chiamato Giver, tool che poi fu rimosso quando il progetto Giver smisse di essere supportato, quindi venne rimosso dal ISO di Linux Mint. Il team di Linux Mint ha quindi deciso adesso di riportarlo in vita e di aggiungere quelle funzionalità a base offerte da Giver e ha messo su questo nuovo tool che, ripeto, attualmente si chiama Warpinator, ma probabilmente nelle prossime settimane, mesi, cambierà il nome. Ed è davvero una cosa carina, perché sono quei piccoli tool alla Linux Mint che aiutano gli utenti a riprimerli. Questa stessa settimana ho pubblicato poi sul mio canale YouTube, riportato anche sul blog di Marcos Box, una piccola guida che illustra come disattivare i gruppi di strumenti su GIMP 2.10.18. Su GIMP 2.10.18 è stata introdotta una nuova funzionalità, o meglio, una nuova modalità di visualizzazione predefinita degli strumenti che adesso sono raggruppati per impostazione predefinita. All'interno della guida che vi ho postato sul blog e che non tutti hanno credito a quanto pare, vi spiego come disattivare e ritornare alla visualizzazione classica, quindi avere tutti quanti gli strumenti in bella vista e non in seconda funzione. Luca ha poi postato una sua piccola guida frutto di un'esperienza personale riguardante un portatile Dell e Ubuntu. A febbraio del 2019 Luca ha comprato un Dell Latitude 5591 sul quale ha installato subito Ubuntu. Tutto bello, tutto filava liscio, fino a quando, prima di Natale, tramite il gestore degli aggiornamenti di Ubuntu, si è ritrovato ad aggiornare i BIOS del computer e da lì in poi ha avuto un bug che gli impediva l'avvio del sistema operativo se il portatile non era attaccato dalla corrente. ha contattato prima il supporto della Dell, poi che gli ha detto di rivolgersi al supporto tecnico specializzato di Ubuntu e quant'altro, fino a quando non ha trovato la soluzione su un forum di Dell. e sul blog di Marcos Box, nell'articolo trovate la soluzione, trovate tutto il resoconto di questa sua esperienza con il supporto e l'assistenza di Dell. Chiudiamo da dove eravamo partiti ad inizio puntato, ovvero torniamo a parlare del Covid-19 e del coronavirus. per informare i cittadini e mettere a disposizione tutti quanti i dati raccolti che sono utili sia ai fili comunicativi che anche di informazione, il Dipartimento della Protezione Civile Italiana ha realizzato un sito internet con un coscolto geografico interattivo su Marcos Box trovate i link sia alla versione desktop che quella mobile dove è possibile vedere appunto lo stato dell'evoluzione del coronavirus con tutti quanti i dati statistici ma ha anche messo a disposizione questi dati su GitHub con licenza Creative Commons 4.0 le informazioni sono aggiornate quotidianamente alle 18.30 praticamente successivamente alla conferenza stampa del capo dipartimento ed è finalmente un ottimo uso degli Open Data come già da qualche giorno chiedevano diversi soggetti sia istituzionali che non che appunto chiedevano al governo di mettere a disposizione tutti i dati in formato open a modo tale da poter essere analizzati e eletti da tutti bene, con questo concluso un saluto a tutti quanti lunga vita e prosperità ma è proprio il caso di dirlo rispolveriamo il vecchio saluto vulcaniano per salutarci visto che quanto pare non ci possiamo nemmeno più stringere la mano in questo periodo ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao